E si terranno martedì alle ore 11 in piazza San Marco a Venezia i funerali di Valeria Solesin, la giovane vittima dei terroristi al teatro Bataclan di Parigi. A una settimana da quell'attentato è stata celebrata questa mattina a Trento da Monsignor Bressan una messa in suffragio delle vittime. La chiesa di Santa Chiara era affollata per la celebrazione a cui ha partecipato anche il console onorario di Francia a Trento Maria Emanuela de Abbondi. Hanno testimoniato la loro vicinanza al popolo francese, il presidente del Trentino Rossi, il sindaco del capoluogo Andreatta, il questore D'Ambrosio. Monsignor Bressan ha fatto un appello alla pace per impedire il proliferare di ulteriore violenza, salutando con favore la manifestazione contro ogni terrorismo organizzata per domani a Roma dai musulmani d'Italia.